Oh, da un po' non c'erano notizie belle, positive? Io ve l'avevo già fatta sospirare ieri questa cosa, oggi ne parliamo nel dettaglio, anche perché ieri ho notato in chat un po' di confusione, quasi come se il caso AMC l'avessimo montato noi del Matiosky Show, non esiste, in realtà in America sono tutti festosi. Come al solito il riassunto è duopo, perché si tratta di un argomento complesso e magari qualche spettatore si è perso le puntate precedenti della telenovela più calda del 2020, la AMC. Che cos'è la AMC? È la catena di multisale più importante negli Stati Uniti, con addirittura delle diramazioni in Italia. La catena UC Cinemas è posseduta dalla AMC. Quindi ciò che succede di là, oltre l'oceano, è inevitabilmente delle ripercussioni anche qui in Italia e nel resto del mondo. La AMC è, da quando c'è stata la pandemia, in crisi marcia. Inizialmente si diceva che non sarebbe sopravvissuta all'estate, ma poi sono arrivati degli investitori a donare un po' di liquidità a questa compagnia sventurata. Dopodiché la timeline dell'estinzione è stata fissata all'inverno 2021. E forse ce ne siamo dimenticati, con tutti questi annunci, questi nuovi film, ma la situazione rimane sempre quella. Tanto è vero che la AMC ha diramato una comunicazione, non è che ce lo stiamo inventando, comunicazione riportata da Variety. E questa comunicazione può essere riassunta con questa frase, non abbiamo più soldi. Quindi, se non interverrà qualcuno, un investitore, un finanziatore, a gennaio 2021 la AMC sarà in quella cosettina marrone chiamata cacca. Vi spiego un po' il motivo, perché tanti giustamente potrebbero chiedersi, ma perché proprio la AMC e altre catene no? No, altre catene sono un pochino più prudenti, non si lanciano in proclami così tragici. Per un motivo specifico. La AMC, prima che arrivasse la pandemia, aveva investito 5 miliardi di dollari, 5 miliardi, nella sua espansione, acquistando nuove sale, potenziando le sale già acquisite. Perché? Soprattutto lanciando nel mercato americano una cosettina che noi diamo per scontata, ma che in America non lo è, l'abbonamento al cinema, la tessera. Voi direte, ma come? In America è un'innovazione incredibile. Fate conto che, d'altro canto, in alcuni cinema non è ancora attiva la prenotazione del posto. C'erano alcuni cinema americani, funziona ancora come in passato. Tu arrivi lì, prendi il biglietto, ti siedi dove vuoi. Quindi, sembrano così tanto innovativi, ma su certe cose sono rimasti un po' indietro. Ovviamente, quest'idea dell'abbonamento è un'operazione che all'inizio porta delle perdite, che poi dovrebbero essere recuperate non appena la struttura organizzativa si diffonde, si sparge a macchia d'olio tra il pubblico. Infatti, la AMC era pronta a dire, stiamo ritornando in attivo, invece pandemia, 5 miliardi di debito. 5. Non finisce qui. La AMC in questi mesi, e all'epoca ve lo dissi, non sta pagando gli affitti delle proprie sale. ha mandato dei comunicati a tutti gli affittuari, dicendo, non riusciamo a pagare l'affitto. Dateci tregua per un po'. A quanto ammonta questo pagamento dei debiti relativi all'affitto? 400 milioni di dollari. Siccome 5 miliardi erano pochi, 400 milioni di dollari. Che prima o poi dovranno pagare. Per farla breve, sembra che la AMC abbia dichiarato che per andare avanti, al momento, per stare aperti, le servirebbero 750 milioni. Come le ricavi questi 750 milioni? Con degli investitori. Arriveranno? Non lo sappiamo, ma ce lo auguriamo. Anche perché, e voglio proprio battere sull'argomento, perché veramente ieri in chat c'era chi diceva, ma no, ma se un'impresa non è fallita finora, non fallisce più. In questo momento, il mercato cinematografico, quello degli esercenti, non ha né il prodotto da vendere, perché non hanno i film, e non hanno neppure gli acquirenti, perché il pubblico non può andare in sala. È una situazione drammatica. Ora, già in estate la AMC è andata un passo dal tracollo e poi sono arrivati gli investitori. Potrebbe accadere ancora. Anche perché, per quanto riguarda il Disney Investor Day, sono arrivate delle notizie tutto sommato incoraggianti. Questa volontà della Disney di continuare a distribuire film in sala, come Black Widow a maggio, come tutta la spatafiata di nuovi film di Star Wars e della Marvel. Quindi sono arrivate delle notizie positive. E quindi, visto che ormai le quotazioni della AMC sui minimi storici, qualche investitore potrebbe arrivare a acquisire le quote, sperando poi nel rilancio futuro. Potrebbe accadere, eh? Però, attenzione che qui la situazione è a rischio. E qui mi dicono il vaccino. Sì, ma il vaccino non arriva dopo domani. E questi ci hanno appena detto che a gennaio, se va avanti così, ciao! E parliamo della catena di multisala più importante degli Stati Uniti. Quindi ci sarebbero meno schermi su cui proiettare i grandi blockbuster, meno introiti per le major, e quindi meno investimenti in produzioni future. Perché poi anche lei cita la domanda, sì, ma noi cosa frega? In parte noi abbiamo l'UCCinemas. Che succede se la AMC saluta? Chiude anche l'UCCinemas? Magari no. Magari l'acquisisce qualcun altro. Vedremo. Ma poi questo è proprio una cosa grave per l'industria. Perché se non ci sono i bacini dove distribuire i film, cosa fanno le major? Se li tengono vero ci sono le piattaforme streaming, e infatti ci stanno puntando tantissimo. Non è un caso. Ma se pensiamo alla fruizione nella sala come luogo di ritrovo, eh, sarebbe una grave perdita. E poi girano meno soldi. Girano meno soldi, esatto, esatto. Scream. In realtà non c'è molto da dire se non prendere atto della situazione, ma ci possono essere dei motivi di speranza. Cerchiamo di tirarci su. Cosa potrebbe accadere? Cerchiamo di tirarci su. Allora, no. No, 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 scherzo, scherzo. Allora, secondo me è difficile che l'AMC trovi degli investitori disposti a salvarla adesso, perché al primo posto nell'investitore, quando c'è un finanziamento del genere, è il proprio profitto e questo, cioè, non c'è nessuna garanzia. È un investimento ad altissimo rischio finanziare, aiutare una compagnia messa in queste condizioni in questo periodo. E c'è veramente il rischio che collassi. Però, perché voglio fare anche un po' l'ottimista, visto che siamo sotto feste, evviva, questo non vuol dire che sia per forza la fine, perché potrebbe esserci la rinascita nel momento in cui si apre uno spiraio, effettivamente, a livello globale, con la situazione, si potrebbe tornare al cinema. Sto escludendo per adesso tutto il discorso del cinema, effettivamente la fine è vicino o meno. Perché, anche se una volta che è in fallimento e fallita, qualcuno potrebbe effettivamente comprarla, guidarla tipo una bancarotta pilotata, e riaprirla pagandone parte dei debiti. Ovviamente si parla di qualche major, di qualche franchise, o anche di un collettivo di investitori disposti a prendere le redini della AMC. Quindi non per forza tutto deve sparire, rinascerà dalle proprie ceneri, eccetera. Perché è una grossa compagnia, è qualcosa di enorme, e non si sa mai. Si vorrebbe evitare la bancarotta, ma secondo me è difficile con questi presupposti. Cioè 5 miliardi, hai detto. 5 miliardi sono un'enormità. Solo 750 milioni solo per tenersi un po' tranquilli. Per tenere aperto, sì. Cioè, chi è che investe? Chi è disposto a dire, vabbè, eccoti un miliardino giusto per tenere aperte delle sale, che proietteranno forse qualcosa, e chissà se la gente andrà a vedere i film. Un miliardo senza ritorno all'inizio. Io la vedo grigia. Ci vuole un lungimirante, mecenate. Dice, lo so, il rischio non mi importa, sono appassionato qua, ma voglio dare che auguri a trovarlo. Oppure qua la lasciano semplicemente un pochino affondare, come il Titanic, per poi dopo scavare nelle ceneri e salvare dopo qualcosa. Dico anche se non stiamo parlando qua di una catena di cinema multisala e non di una casa di produzione e distribuzione, mi ricorda la Metro Goldwyn Mayer, questa cosa qua. La Metro Goldwyn Mayer, quando è fallita, l'hanno fatta sia affondare, però hanno pilotato la bancarotta e l'hanno rimessa in piedi. Perché, appunto, c'erano tanti soldi, c'erano tante cose, non volevano abbandonare tutto. E potrebbe essere, da un punto di vista economico, potrebbe esserci un'operazione simile. Questo è tanto per dire. Ti chiedo questa cosa, perché una delle ipotesi più quotate, io francamente la vedo improbabile, però ci sono opinioni diverse. Secondo te, questa AMC, o in generale i cinema che sono sull'orlo del tracollo, potrebbero essere acquistati da una major cinematografica, e c'è chi fa sempre il nome della Disney, oppure da un'entità dello streaming, quindi Netflix decide di comprare le sale, Amazon compra le sale. È un'ipotesi praticabile? Wow. Mi piace? Mi piace, sì. È più probabile Disney, per quanto mi riguarda, però pensare Netflix, così, che comprano le sale, è per dar vita a qualcosa di nuovo, o quantomeno allargare il proprio franchise. Stanno guadagnando sempre di più, quindi potrebbero anche tenere in considerazione nuove possibilità. Praticabile? È veramente un grosso punto di domanda. Sì, è plausibile, ma come è plausibile che arrivi Tizio Caio dal Giappone che non ha mai sentito parlare niente di nessuno, è che dia vita a un nuovo sistema di intrattenimento, di cui nessuno ha mai sentito parlare niente, di successo. Cioè, stiamo parlando di cose così, di questo livello, di questa vaghezza, scusate il termine, guardate le lucine. Sì, è probabile quanto è probabile una cosa del genere. Può succedere, ma può non succedere. C'è il successo per queste cose, per Netflix. Stanno avendo grande successo queste piattaforme streaming. Stanno avendo degli incassi, delle entrate, faranno altri investimenti, proveranno cose nuove. Quindi tra queste potrebbero... Io dubito perché prima liquido le major. Le major stanno puntando sui propri servizi streaming, sul servizio diretto al consumatore. Quindi se puntano su quello, che gli è frega della sala. E secondo me lo stesso ragionamento vale un po' anche per le piattaforme streaming. È sicuramente un'ipotesi suggestiva, e non è improbabile, attenzione. Però non riesco a capire perché una Netflix, che è leader nel suo settore, e che tra l'altro sta utilizzando la struttura del debito, quindi prima o poi dovrà rallentare un attimo per appianare quel debito, non capisco perché dovrebbe lanciarsi in un'impresa che in questo momento sembra destinata al fallimento. Cioè anche nel momento di massimo splendore dei cinema, il 2019 è stato un anno da record, non è che si facciano i soldoni con le catene di multisala. Cioè non si vive male assolutamente, ma non immaginate che la quota per gli esercenti sia ingentissima, che si navighi nell'oro. Non riesco veramente a capire, c'è questa fascinazione della catena di multisala che ti proietta i prodotti originali dello streaming. Ma non so se è il loro interesse. ci stanno veramente puntando tutti all'esperienza home video. Tutti. Quindi poi magari invece la fascinazione ce l'hanno veramente e scenderanno in campo. Ma in questo momento non la ritengo una cosa così scontata. È vero, è vero. Ma magari trovano qualcosa da lanciare solo e esclusivamente al cinema. Che non può essere smesso in streaming. Non so, non farmi domande. Non lo so. Guarda le luci già. C'è veramente un'impresa che, a meno che, cioè il cinema secondo me, non dico per sopravvivere, perché se non ci fosse stata la pandemia sarebbe andato avanti anche così. Ma se queste aziende dovessero entrare in gioco, secondo me, ridisegnerebbero proprio l'esperienza quasi da capo. Non sarebbe più il cinema che conosciamo, secondo me. Però non riesco a vederle così interessate a questa struttura che secondo me a loro avviso può anche risultare un po' antiquata. Loro sono l'alternativa. Però per loro potrebbe essere un riscatto, cioè da questo punto di vista. Nel senso che sono sempre piattaforme che sono sempre state un po' prese come, non so, delle figlie adottive del cinema, ma anche delle figlie minori del cinema. E non sono sempre state prese seriamente. Negli ultimi anni comunque, anche mettiamo un festival grande, come i primi Oscar. All'inizio, se vi ricordate, i film Netflix, i film prodotti da Prime, erano sempre visti come non i film che erano in gara. Erano i film che propone Netflix, i film che propone Prime. E sono sempre stati visti come film tra virgolette di seconda categoria, come possiamo dire. Tranne quando poi sono subentrati i registi come Cuaron, come Scorsese, come molti altri, hanno cominciato a produrre prodotti al pari della qualità dei prodotti olivudiani che vediamo ogni anno. Secondo me, a livello di investimento, potrebbe essere una sorta di rivalza da questo punto di vista. Ecco, concordo con Scrim, ancora una volta, dicendo che potrebbe cambiare effettivamente il modo di usufruire della sala cinematografica. nel caso queste major prendessero parte, diciamo, all'investimento. In realtà poi avevo letto che sei miliardi sono tanti, sono tanti ma non tantissimi per major che hanno tanti soldi. Ecco, Netflix non è una tra quelle, come ha detto Mattia, perché Netflix non ha liquidità. Cioè, rendiamoci conto che Netflix la sua liquidità la spende e dopo fa un debito per spenderla di nuovo, investire, per guadagnarci. Cioè, loro vanno in pari, ma questo non vuol dire che ci guadagnino chissà quanto. Cioè, non vuol dire che non guadagnano niente, se no, non sarebbero un'azienda che potrebbe andare avanti, però non hanno questi guadagni come Amazon. Però Amazon, ricordiamoci che non è solamente Amazon Prime Video, ma è anche tutto quanto quello che riguarda il mondo di Jeff Bezos. La cosa che poi bisogna calcolare è anche effettivamente quanto di queste IMC riguarda la distribuzione cinematografica e quanto effettivamente riguarda il terreno dove stanno. Perché paradossalmente io ho parlato quando stavo in America con una persona che viveva lì e diceva ma adesso in realtà in America non conviene tanto diciamo affittare un posto per fare un'attività, ma conviene comprarlo direttamente. Perché questo posto successivamente diventa il posto dal quale puoi guadagnare eventualmente se vendi il tuo il tuo luogo di lavoro per un possibile guadagno perché guadagni generalmente soprattutto nelle grandi città come per esempio New York gli affitti salgono di anno in anno paradossalmente. Quindi anche lì bisogna vedere se IMC e questa cosa non la so possiedono davvero i spazi nel quale stanno i loro film e anche questo potrebbe essere un investimento ancora maggiore paradossalmente di quello che è già abbastanza comunque questi 5-6 miliardi che devono affrontare. Secondo me potrebbe effettivamente avere oppure come ha detto Scream una banca rotta pilotata in qualche modo anche Gibson ebbe una banca rotta pilotata perché alla fine si sapeva che qualcuno li avrebbe salvati ma non non saprei perché comunque è molto grande è davvero enorme la catena IMC mi ricordo che New York erano praticamente tra cinema su 5 quindi la vedo molto molto dura e si dichiarano loro una quasi banca rotta e poi comunque confermo questa cosa che ha detto Mattia dell'abbonamento perché uno andare al cinema in America è un salasso è un cazzo di salasso costa davvero tantissimo ma al di là delle proiezioni in IMAX che costano troppo tipo costavo io l'ho pagata mi ricordo ho visto Dunkirk 35 dollari che è tantissimo sono una trentina di euro fate conto e generalmente ti costa 20 dollari cioè nelle multisala è tanto è comunque tanto quindi in verità per questa cosa loro nel 2019 che hanno introdotto gli abbonamenti annuali mensili hanno fatto una buona mossa poi ho sfiga voluto che c'è stata la pandemia però ecco questo bisogna vedere anche come come risolveranno questa questo fatto della della spesa questo anche per rispondere al prezzo di Mulan che sembrava ingentissimo io vi dicevo guardate che in America è quasi conveniente il prezzo di Mulan perché in America sono dei ladri cioè come dicono nei commenti sono dei gran ladri la cosa che ti fanno pagare niente il mangiare cioè loro per loro andare al cinema in realtà è tutta l'esperienza cioè tu paghi il biglietto poi paghi una miseria per i pop corn e puoi prenderne quante ne vuoi ma delle ceste tipo così cioè sono tipo tre chili di pop corn la bibita rifilla quanto ne vuoi ed è davvero assurdo qui invece funziona al contrario cioè i biglietti comunque costano ma il cibo ancora di più cosa più del biglietto si guadagna sul cibo sì ma ho capito ma 35 dollari un biglietto io pretendo quantomeno di far parte del cast del film che sto guardando meraviglioso sì no detto delle cose interessanti Jack io sono ancora un po' scettico su queste piattaforme streaming che non vedono l'ora di arrivare al cinema o letto in chat ma così non avrebbero problemi agli Oscar ma non ce li hanno già più i problemi agli Oscar perché gli basta trasmettere i film tot giorni in determinate sale di Los Angeles i film sono candidabili ormai gli Oscar non possono più fare a meno di candidare a certi film visto che la cerimonia è sempre meno seguita devono sempre prestare un occhio alla commercialità poi quest'anno addirittura si sono aperti ai film che inizialmente sarebbero dovuti arrivare in sala ma che per obbligo sono finiti in streaming stanno aprendo sempre più le maglie secondo me non c'è neanche questa necessità però vabbè scopriremo molto presto cosa ne sarà di noi e della AMC manca poco poi magari a gennaio un'altra volta arriva l'investitore e quindi l'orologio della mezzanotte è il pazzoide non è l'investitore è un pazzoide 5-6 milioni di debiti ribadisco quindi volendo tirare le somme la proiezione più probabile è che Disney è veramente interessata l'unica veramente un po' interessata l'AMC aspetta che si metta male guida la bancarotta per ridurre il debito in questo modo alcune cose non le devi pagare paga il resto e ne acquisisce tutto è la cosa volendo un po' più plausibile plausibile diciamo grazie a tutti